ciao a tutti da iota e bentornati su questo canale oggi proveremo northern lights luci del nord praticamente dalla vista credo che sia un survival settings linguaggio inglese francese italiano attenzione signori abbiamo l'italiano però scusa it sottitolo metrico ok audio russo inglese no va bene output ok apply facciamola a 30 dovrebbe essere ottima 30 grafica va bene lasciamo tutto normale controlli vsd left click è ok perfetto e new game ma io ho messo italiano forse devo riavviarlo c'è un settaggio che it è spagnolo vediamo riavviamo magari devo riavviare il gioco per vedere la lingua italiana magari non c'è e come pensavo no non c'è almeno nel menu non è in italiano ma non è un problema settings ok speriamo che non mi abbia resettato ok perfetto new game resourceful tutorial on survival resourceful wanderer vabbè lasciamo quello che dice ok we often you create yourself a survival free experience player looking for balance between inspiration survival start a così in the middle of nowhere non ci dice niente certo semplicemente settembre 13 proprio così va bene ecco non mi dire che all'inventario quello la che pensi prendi prendi ok inventario 1 2 3 cerchiamo di capire un attimo velvet scarf questo è un inguovaggimento che questo è pain per due bastoncini non ne ho ok salto per fece il salto e non c'ho il coltello questo cos'è però posso farlo un coltello no come si fa a craftare ccraft no what m ah però c'è la mappa che la cosa mi piace e ci è il compagno ah la bussola ok 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 perfetto allora e take bravo bravo mi piace sta cosa ok ci abbiamo la raccolta compulsiva flora tu puoi fare la vita di flora se attenzione alcuni vesti possono farti male l'ho già capito che quella lì mi fa male raccogliamo le pietre come al solito su minecraft si raccolgono i legni qui si raccolgono le pietre e come tutti i giochi di survival la prima pietra poi scaglie la prima pietra sull'altra pietra dovrebbe creare almeno un qualcosa tipo coltello ma c'è una pianta eh adesso secondo me ci sono i lupi che ci mangiano questo non si raccoglie ok inventario questo se io adesso faccio no come si fa a craftare non l'ho capito escape the island scout location ok questa è la nostra cosa questo è tutto l'inventario ah ecco le skill crafting no no le skill non ci interessano le note craftare stick rope e stick stick knife non ci serve la ropa questo è un knife e due stone lo possiamo craftare perfetto ce l'abbiamo in mano adesso ora dove era quel coso lì pennuto per esempio ma se io corro si se io corro consumo ecco e il problema di questi giochi ah no era solo la stamina spero che non sia il classico gioco che devi mangiare ogni 7 secondi con una lag della madonna perché perché se no non è survival cioè spero che invece io non mangio nella vita reale ogni 2 secondi questo ci vorrebbe una pala ma esattamente quando ho fame 2-3 volte al giorno qua invece devi mangiare ogni 7 secondi ah fame ah fame questa cosa è quella che non mi piace tanto ma c'è il peso? perché io sto raccogliendo compulsivamente però devo capire questo qua si può rompere take cosa ho preso? ok vabbè per fare il fuoco c'è una cosa che no non lo so oh questo lo posso buttare giù col coltellino svizzero? no però posso fare così che non so il tasto veloce per fare il crafting possiamo craftare la chat che però non so dove andata a finire ah ok 2 salvaggia ah lo fa lui perfetto madonna mia che cacchio è un troncolo aspetta c'era un more che vabbè si harvest ok quindi c'è la bufera qua fammi capire m siamo qua però c'è il lago il lago è verso nord no? cioè eh si quello è nord quindi se io faccio c dovremmo andare verso di là ok sprintiamo un po' dai con un jump pure e andiamo verso il lago sperando che non sia un lago ghiacciato magari troviamo qualcosa da mangiare a che punto siamo dal lago? ancora possiamo recuperare un po' di stamina basta si vedono le orme no peccato c o con boss che poi sarebbe la bussola ma ci sono solo rametti e schifezze varie per adesso per adesso si si va bene t per guardare la temperatura 14 gradi il vento è 19 la temperatura ci siamo vabbè ok dov'è? 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 il corvo che ti mangio? va bene allora uno questo lo posso prendere? si take cos'erano? delle bacche va bene cicombus stiamo andando verso giusto m mappa ci siamo quasi voglio vedere il lago soprattutto per quello e qui abbiamo delle cose per curarci sconosciuta pianta la dobbiamo mangiare per capire la pietra la prendiamo non si sa mai lì non c'è niente ci siamo che laggona lagga aspetta deve ancora caricare sta ciancando m ci siamo qua dopo questi alberelli dovrebbe esserci il fatidico lago che di solito ci si accampa sempre vicino ai laghi appunto per avere l'acqua perché sennò come fai a bollire le cose e a mangiare e a bere dici ti bevi la neve figo mi è piaciuto quel rumore eccolo qua il laghetto il laghetto sarà ghiacciato per esempio no? ah così c'è anche il control non si fa niente? no perfetto tasto harvest perfetto e adesso H no I inventario crafting falò 14 stick crealo qua build ah dobbiamo premere compulsivamente la E vabbè arvestiamo questo coso qua Elf 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 ok andiamo qua ma è piccolissimo un fuoco un padrappo piccolo dove è finito? qua di più harvestalo ok no ah li stick e raccogliamo li stick questo cos'è? una pigna una pigna colada stick 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 che trovi questo cos'è? prendo tutto io fungo 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 altri stick una pigna non posso trasformare gli alberi in stick no vero? vabbè il cursore bianco sullo sfondo bianco direi che è una pessima idea quindi magari ma ce ne serve un altro l'ultimo l'ultimo per avere lo fuoco lo fuoco cioè ce n'erano due miliardi di là di qua non ce n'è più eh non lo so ho preso un'altra pianta eccoli qua bastoncione questo qua è piccolo però forse lo possiamo no aspetta aspetta no non si arvesta va bene ma che cacchio è sta roba ah v per per guardare il coso per guardare lontano tipo così wow c'è uno c'è un capanno ma noi ce ne andiamo al capanno stiamo costruendo il fuoco qua non si può distruggere il fuoco c'è il capanno all'altra parte quindi se io faccio m mi dice che c'è il capanno eh dobbiamo andare a esplorare il capanno signori abbiamo una missione abemus missiones take more harvest grazie andiamo al capanno secondo me sprofondiamo e moriamo però va bene che si rompe il ghiaccio ci siamo ci siamo no non è un capanno io ho visto un capanno eh lo so sono stanco affizionate ipotermia rischio siamo affizionati premi q ipotermia rischio e lo so fa freddo avemus cavet avemus casettas ma che è ma che te te piro pappo lag ah belle queste case peggio di minecraft no ah sono fishing at frozen fishing ah hai capito possiamo pescare usa cosa un tool ci serve che che ne so questo 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 non lo so no non uso niente ok praticamente abbiamo trovato lo spot per fishare ho detto che era meglio venire qua ok sì l'ho capito che stai morendo di freddo e c'hai cosa però ogni due minuti non puoi fare così se stai in sibere ci sarà un motivo no craft vieni qua to mettiamolo qua oh si classico adesso mi serve un fire starter e fire starter come si fa il fire starter torcia stick pirro stone pirro fishing tackle and drill sarà questo poi snare trap lo facciamo pure qua stick e poi si ok stiamo morendo fermi tutti ah c'è pure questo stick rope e cloth eh non ce l'ho stick e questo e questo facciamo qua avevo il fire starter io usa e dov'è il mio fire starter eccolo qua no che distroio questo and the drill and the drill non è quello non capisco vedi queste cose qua non le capisco perché lui mi dice fare quello lo voglio usare questo fammelo usare no tinder no harvest arvestalo cos'è caso cos'è harvest e non ah mi fa gli stick quando faccio harvest lui mi fa gli stick ma ma le cose se ne vanno male le cose scusate eh cioè perché magari sono rincoglionito io però io non capisco cioè mi piacerebbe ah fai start skill level 1 ridici stamina ok voglio farlo voglio fare un coso questo ce l'ho lo so fare perché non posso usare il first ha forse bisogno di altra roba della pagliericcio tanti arriverà notte io morirò io lo so cioè è classico sap dressing questo non si può buttare giù ma quello si questo che roba è i sassi take salvaggia eh lo so buru 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 magari sbaglio io eh non lo so mi sto trovando in difficoltà perché non capisco come accendere il fuoco la notte arriveranno i lupi mi sbereranno e morirò eh che ci posso fare è la vita ok rmb harvest firewood usa ora io c'ho c'è questo qui così no questo qui così no ah ok l'ha messo ok questo è l'innesco ho trovato ok starter dove cazzo sta lo starter ah ma l'aveva buttata tutta a terra in espruce bark ok poi mi serve lo starter sarà questo tinder planca stick no ma ok allora riproviamo va bene ce l'abbiamo fatta ah signor fuel perfetto ce l'abbiamo fatta scu ok l'ipotermia se ne sta andando sempre l'ipotermia si si puru puru pu stiamo vicino stiamo vicino ora nel frattempo che lui fa così dovremmo creare uno shelter stick rope e cloth il problema sono i cloth come si fanno i cloth ah cioè se io facessi una cosa del genere si può girare si ah proprio non lo puoi fare continua a dare l'ipotermia però cooking spot usa posso cucinare continua a fare bro 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 ma sei vicino al fuoco non mi stronzate cioè cioè se fu sopra il fuoco ti sei bruciato è normale adesso voglio vedere se capito eh to questo cos'è pine sap pinnacolata si possono cucinare pinnacolate si boh ma e domanda distruggi questo qua cos'è harvest abbiamo riciclato lo scrap metal non ce ne frega stiamo cercando di capire come fare le rope perché lui non ce le dice bidone allora vediamo un attimo eh perché vorrei anche prendere questo io la rope da dove la prendo clot 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 bandaggia fine sap e non c'è più niente qua non c'è niente trappole non c'è niente stick verventi sempre le clot e le rope in qualche modo si deve fare la rope vediamo un po' però non ce lo dice come quindi lui quello che curata 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 non siamo più ipotermiati che figata usa ma quanto consumi è buio facciamo così creiamo questo coso però non ce lo fa mettere qua non so perché non gli piace e cosa possiamo creare adesso niente perché non c'è niente da creare mannaggia aspetta i funghi i funghi fammi vedere se si possono cucinare i funghi che è sta roba panecone panecone posso cucinare un fungo voglio consumare la consumazione sanità 15 abbiamo mangiato signore abbiamo mangiato rischio di infezione food poisoning e febbre abbiamo tutto signori perché abbiamo mangiato quella cosa ma siccome sconosciuta bacca consuma perfetto ma che cacchio ci fa sto coso qua io non so come si fa la rop se qualcuno di voi lo sa me lo scrive sui commenti perché io non ho capito come fare la ropa cioè in teoria adesso siamo qua potremmo andare verso ci compasso puntare sempre a nord e vedere quello che ci aspetta ah magari sono ste cose fermi tutti eh no di solito la ropa erano i cespugli andavi qua facevi così prendevi i cespugli in tutti i videogiochi di questo genere facevi la ropa però in questo caso no quindi sicuramente ci sono molte altre cose da scoprire naturalmente siamo avvelenati schifezzati ah forse è questa la ropa la ropa la ropa è quella quella attaccata agli alberi qual è il tuo problema vieni qua consuma la pianta ecco ho la sanità che vedo le cose volare perfetto ci compasso quindi no non era questo dove cacchio era la cosa per pescare qua no ah ci vuole il bonhook eh il bonhook si fa con lo scratch metallo che ce l'ho però lo scratch metallo scusami aspetta fermi tutti vediamo se no peccato stick knife facciamo lo stick knife ah vedi vedi abbiamo sbloccato qualcos'altro ci va a caccia qua eh si vediamo ma quando si muore quella è la casa però l'ha fatto così casetta lui ha deciso casetta voglio vedere verso nord un coniglio abbiamo ucciso un coniglio ma arvestiamolo subito grande dobbiamo andare di là c non si vede più niente però penso di qua a parte la lag basta seguire la costa troveremo il nostro accampamento credo ci siamo quasi si dietro di te fareste voci la pelle tocola soprattutto eccolo lì il fuoco lo vedo lo vedo il problema di queste cose della sanità mentale queste meccaniche qua è solo uno che poi sono si consumano velocemente cioè neanche un giorno che siamo qua già siamo oh mio dio stiamo morendo cioè non è no ma anche no mo ho il bone il pelt la carne non ho capito perché non la cucini c'è scritto fare spottolo non la fa cucinare signori io ci ho provato però la consumiamo così e dopo questa bella tempesta dato che il gameplay è durato abbastanza direi che infatti mi sono anche stiracchiato direi che chiudiamo qui vabbè come tutti i videogiochi di survival avete ben capito più o meno le meccaniche spero che vi sia piaciuto vi lascio il descrizione il link e se volete supportare il canale lasciate un like o un commento e se vi va iscrivetevi e come sempre siete mutici alla prossima bye bye ciao